La nostra regione continua ad essere interessata da condizioni di tempo molto instabile che ha determinato negli ultimi giorni precipitazioni molto abbondanti con nevicate in montagna intorno ai millimetri, instabilità che si presenta a fasi alterne in concomitanza del passaggio di fronti perturbati di origine nordatlantica. La prossima perturbazione è attesa nel corso del pomeriggio sera di venerdì 10 dicembre e determinerà un nuovo marcato peggioramento che si protrarrà almeno fino alla prima parte della giornata di sabato. Sarà seguita da aria relativamente fredda, pertanto proprio nel corso di questo fine settimana ci attendiamo una sensibile diminuzione delle temperature. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 11 dicembre nelle ore notturne e al primo mattino condizioni di cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio. I fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi sui settori centro-meridionali del Cilento con un occhio di riguardo alle aree in prossimità del golfo di Policastro. Qui potrebbero abbattersi locali nubifragi anche i grandinigeni, nevicate in montagna al di sopra dei mille metri. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi lungo la costa, concentrandosi nelle aree montuose nel corso della serata dove si avranno sporadiche spruzzate di neve intorno ai 900 metri. Temperature in diminuzione, specie dal pomeriggio. Venti inizialmente forti da libeccio tenderanno a ruotare da nord-nordest nel corso del pomeriggio. Mare da agitato ammosso con moto ondoso in ulteriore diminuzione dalla serata. Domenica 12, condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso in prossimità della costa, mentre addensamenti nuvolosi interesseranno la dorsale appenninica dove potrebbero verificarsi locali piovaschi con deboli nevicate al di sopra degli 800 metri, ma si tratterà di nevischio. Temperature in diminuzione nei valori minimi, venti moderati da nord-est e mare poco mosso. Da lunedì l'alta pressione delle azzorre si espanderà verso est-nordest finendo per inglobare l'intera nostra penisola e dunque anche la nostra regione. Questa lunga fase con tempo piovoso e relativamente freddo dunque giungerà al termine e, almeno fino a venerdì 17 dicembre, avremo condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato, specie sui colli e sui monti, con temperature miti durante le ore centrali della giornata. Ci sarà però da mettere in conto la formazione di dense foschie e banchi di nebbia durante le ore notturne e al primo mattino nelle aree pianeggianti e nelle vallate interne, dove farà piuttosto freddo, sempre questo nelle ore notturne. Per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook meteo cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile